Ciao a tutti, allora oggi sono qua per un breve video, sarà un tag di sole 6 domande e si chiama non solo libri tag. Allora, parto subito con la prima domanda, che è qual è quella cosa di cui possiedi tanti articoli che non sono libri? Allora, dei quaderni in formato A5, delle penne e dei segnalibri. 2. Cosa hai sul comodino esclusi libri? Allora, ho la lampada, l'orologio, la sveglia, qualche profumo e dei medicinali, anche le cuffiette. 3. Cosa compri nelle librerie esclusi libri? Allora, ultimamente ho comprato delle penne, quelle sono quelle dalla Legami, poi una tazza, sempre legata ai libri e basta. Ah, e i disegnalibri anche. 4. Qual è il regalo più bello che hai ricevuto escluso gift card e libri? Allora, ho ricevuto due librerie, una piccolina da mia nonna e una un po' più grande da parte di mia zia. 5. Quali canali YouTube guardi non legati ai libri? Allora, ce ne sono un po' e ve ne cito giusto un paio, che sono il Pit e Urbex MJ. 6. Tagga altri canali in cui si parla di libri. Allora, poi questi canali ve li taggerò sotto e taggo Lorenzo Iero, Il Mondo di Cree, poi Hobbit da Biblioteca e Sebastiano Fame di Libri. E con questo concludo il video e ci vediamo al prossimo.